Pianco a sinistra un cedimento, ripeto, left flag, out! Ok, double down. Cinas! Oh! Oh, double down ancora! Sto cercando di colpire, eh! Dattemi una mano! Tinas, Maremma, Maiala! Chi è che ha invitato Tinas? Tinas, in volo! Sono in mid, ragazzi! A sinistra anche, attenzione! Ma dov'è? In basso! Eccolo! Volo di ricognizione concluso! Ok, c'è il bombardamento! Pronto! Brasso Frildi in un cita! X, X! 1, 2, 3, 30! Au! Postazione sotto controllo! A sinistra, one man! Delivolo, spia, nemico avvistato! Indemico controllo, postazione! Dai, qua ci farà! Postazione individuata! Postazione sotto controllo! Nooo! Ma non ho avvinato i parola! Ma vaffanculo! Detto il cannone! Non ho avvinato i parli! Due ennemis! Colpi d'artiglieria sulla zona bersagno! Postazione individuata! Postazione sotto controllo! Postazione in easy control! Uno l'ho scoperto! Globo! No! Delivolo spia decollato! Aaaah! Lei! Delivolo spia in volo! Per la spia in uscita! Accaccano la postazione e servono rinforzi! Combardamento Fritz X pronto! Bombardamento a Fitch, Kratten, riuscita. No, la canata precisa mentre lanciavo il raggio. Ah, era alleata, bene. No, ragà, mi mancavano 20 punti al parato. Tenti al mid, tenti al mid. In mid, oh, ho fatto fuori. Sì, vedi un cazzo. Uno l'ho fatto. Cazzo! Sto resistendo. Oh! L'ho fatto con la pistolina. Ragazzi, prendiamo Alpha. Controlliamo tutti gli obiettivi. Dì che chiamci ha attivato da questo. Prendono Charlie! Metto in volo, ricognizioni aeree in corso. Bota Argo. Sono sconosci dietro. Su Alpha. Bota Argo, si cacciata. Charlie perso. Oh, beccato, beccato, beccato. Ancappato, beccarli. Metto in volo, ricognizioni aeree in corso. Prendono Baker! Relivolo spia in volo. Relivolo spia pronto. Volo di ricognizione concluso. Abbiamo perso P. Ho doppiato la stuca. Relivolo spia in volo. Abbiamo tutte le posizioni. Compartamento Aton in corso. Contatto nemico a Charlie. Relivolo spia in segni. Stam shendo tusto. Novo stuco. Stuco, arrivo di nuovo. Double stuco. Double stuco, autok. Volo di ricognizione concluso. Oh mamma mia, sono andando bene su serie! Allora, 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 allora! Catturano Charlie! Non santo nemico a Charlie! Il sacco del pilota non caccia il corpo! No, 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 no! Tocco, tocco, tocco!